Ho il mio senso che voglio far ragionare, la mia fonna, il mio amore grande, che la mia roba ho il cazzino, ma la mia bicicletta è oredita da mio padre, l'uno è laura che mi ha sentito legata in quel momento. E la porta è dedicata perché là sotto il porte settimana passata i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, le ragazzi, le ragazzi, le ragazzi. Io ho capito però che pretendere a me che lei ci sembra la tua vicine. E vada se la chiave, bene, se non ho, tanto lei con la tua mamma. Di lei con me? Ma che la cacchè ha diventato una tragedia. Sulla te per me che la lei ha la rocca come scala delante. Appare sono, no? Grazie. 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 Applausi. Grazie. 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 Grazie.